In questo caso parliamo di XVEC, un altro trecciato della gamma Rodachinson, nello specifico quello che ho in mano è l'XVEC 50 libre e lo troviamo anche nella versione da 40 libre e non spaventatevi per gli alti libraggi perché è una treccia composta da una fibra che ha altissime qualità tecniche ma che permette di avere un diametro molto contenuto, spero si possa vedere bene dal video ma potrete notarlo quando andrete a vederlo nei nostri negozi autorizzati. È una fibra anche questa molto particolare che è stata inserita da Rod nel mondo del carp fishing, è una fibra che viene utilizzata normalmente nella nautica quindi per fare lavorazioni sulle vele e per la costruzione della vele, la realizzazione delle vele che hanno bisogno di essere molto molto resistenti ma allo stesso tempo molto molto leggere e come in questo caso vedete molto belle e facili da lavorare, molto morbide. L'XVEC lo si può trovare anche nelle versioni come nel caso del Kei Amid, ricoperto, nella versione soft quindi non affondante, nella versione Eevee invece affondante. anche questo ovviamente è un prodotto completamente UK quindi altissima manifattura europea. grazie a tutti i come Grazie a tutti.